Non si fa attendere la risposta del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, alle dichiarazioni rese in un'intervista di TRG dai dirigenti scolastici del Cassata Gattapone di Gubbio, David Naderi, e Mazzatinti, sempre di Gubbio, Maria Marinangeli. Il tema, l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale di due nuovi indirizzi presso il Casimiri di Gualdo Tadino, un professionale per servizi all'agricoltura e un tecnico per il settore della grafica. Un dirigente scolastico, scrive Presciutti, che afferma l'offerta formativa del territorio gubino è molto esaustiva, da anni il quadro si è assestato, oppure peggio ancora, scegliete l'originale e non la copia, somiglia più ad un operatore da televendita ed evidentemente se ne frega di una strategia territoriale complessiva, ma si concentra esclusivamente su una visione gubbiocentrica che non può in nessun modo essere accettata. Presciutti respinge al mittente anche l'accusa della mancanza di un tavolo territoriale di concertazione sul tema dell'offerta formativa. È una falsità, afferma, in senso assoluto, visto che sono ormai più di due anni, che sia in ambito di tavolo o aree interne, sia in momenti istituzionali aperti, in molte occasioni si è discusso del futuro dell'offerta formativa e di sicurezza in ambito scolastico, molto spesso con assenze strategiche. Il sindaco di Gualdo Tadino rende nota quindi la sua posizione sul tema scuola nel territorio. Nell'area interna nord-est dell'Umbria, dice, bisogna arrivare a poli omogenei territoriali che valorizzino tutti i comuni, nessuno escluso, dove insistono indirizzi di scuola media superiore, quindi Guppio, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Occorre necessariamente arrivare alla creazione di un polo ad istruzione scientifica, uno per gli studi classici, uno per quelli linguistici, uno di carattere tecnico ed uno di carattere professionale. Tale proposta, afferma, è stata sposata e sollecitata dalla delegata aree interne in rappresentanza del Ministero e dai dirigenti regionali presenti al tavolo. Ma visto che di questo i dirigenti scolastici eugubini evitano da tempo scientemente e furbescamente di parlare, afferma Presciutti, il risultato è che anche quest'anno, tra i 16 indirizzi tagliati in provincia di Perugia per mancanza cronica di iscritti sufficienti, non ce n'è nemmeno uno che insiste nell'area interna. Quanto ai nuovi indirizzi, Presciutti precisa che, se proprio vogliamo parlare di sovrapposizioni, le uniche che in questi anni sono sorte e ad oggi sono ancora in essere, riguardano proprio gli istituti che insistono nel Comune di Gubbio, che hanno visto replicare gli indirizzi del liceo scientifico e quello dell'Istituto Tecnico per Geometri, che erano già presenti a Gualdo Tadino, mentre il professionale Servizi all'Agricoltura e Sviluppo Rurale non ha nulla a che vedere con il triennio di natura tecnica presente a Cassata Gattapone e il tecnico per la grafica è distantissimo dal liceo artistico. Presciutti conclude dicendosi aperto al confronto, ma anche di essere fermamente contrario ad un modo di agire arrogante ed autoritario, che nei fatti ha impedito in questi anni l'avvio di un confronto serio e di merito, che ci avrebbe consentito di raggiungere già importanti risultati per tutto il territorio.